Siamo alla macro categoria HR. Il premio è quello di HR Team dell'Anno Franchising Immobiliare. Andiamo a leggere la motivazione. Per la creazione di un ambiente giovane, dinamico e in continua crescita, che hanno reso l'azienda un vero leader nel settore in Italia e in Europa. Per il metodo operativo unico nel suo genere, la formazione, favorita grazie all'esistenza di Tempo College, la scuola di formazione interna. E questo premio va a Tempo Casa. Collegata con me Francesca Ravasi, HR Manager di Tempo Casa. Francesca, benvenuta, grazie per essere con noi. Buonasera a tutti, grazie a voi di questo invito. E poi grazie a voi invece per questo riconoscimento, perché si tratta di un'eccellenza e le chiedo un commento a caldo, insomma, subito. Allora, è stato sicuramente un grandissimo orgoglio ricevere la mail di essere stati premiati come finalisti e sono molto molto contenta. Anche tutto il team, grande sorpresa e grande soddisfazione per il lavoro svolto, sicuramente. Soprattutto in un momento come questo, io lo sottolineo sempre, perché però è doveroso, insomma, anche se lo sappiamo molto bene. Ma non è scontato, perché poi, insomma, i successi si notano ancora di più in queste situazioni. Peraltro sono state messe in evidenza nella motivazione le caratteristiche, alcune delle caratteristiche che fanno parte del vostro lavoro. Francesca, poi lascio a lei, insomma, parlare in generale anche della vostra mission e del vostro sguardo al futuro. Ma, insomma, un ambiente giovane, credo che siano le cose più importanti, dinamico, in continua crescita, appunto, non solo in Italia, ma in Europa. E poi questa scuola di formazione, formazione in primo piano. Sì, esattamente. Questo è un po' lo spirito di Tempocasa. Faccio una premessa, perché la direzione risorse umane in Tempocasa mi piace definirla una start-up in fase di consolidamento, perché siamo presenti da due anni tra qualche giorno. E siamo cresciuti veramente tanto, partiti come progetto pilota su alcuni punti vendita, ad oggi siamo in 15 nella direzione HR. E quindi questo sicuramente ci fa grande, grande piacere. È anche un modo, quindi, per festeggiare il compleanno, mettiamola così, dai. Esatto. Quindi, insomma, arriva proprio a puntino questo riconoscimento. Perfetto. Prego, prego. Sì, esatto. Arriva a puntino e di fatto le motivazioni sono proprio, come dicevo prima, lo spirito di Tempocasa. Tempocasa è un franchising che condivide forti valori e che cerca di eccellere e aumentare la sua qualità. E questo è stato possibile grazie al lavoro fatto dal mio team in collaborazione con tutte le società che all'interno del gruppo danno dei servizi a tutti gli affiliati e tutti i nostri collaboratori. E in primis sicuramente la collaborazione con la scuola di formazione Tempocollege. Con la scuola di formazione Tempocollege, infatti, abbiamo creato e ricreato il metodo produttivo e di inserimento dei collaboratori. Abbiamo fatto moltissimi inserimenti, siamo a quota 548 inserimenti e per la prima volta abbiamo sfondato le 2822 personali all'interno del franchising anche in un anno, ahimè, un po' particolare. E questo è stato possibile grazie, ripeto, al supporto costante di tutte le società. Dalla società informatica che ci ha digitalizzato tutti i processi, dalla scuola di formazione con la quale abbiamo ricreato un onboarding per tutte le persone che per la prima volta entravano nel mondo Tempocasa e che avevano bisogno di una formazione, sia tecnica, ma sia anche motivazionale per superare, insomma, anche questo periodo. Sì, sicuramente. Infatti stavo proprio dicendo che in questo momento, insomma, è anche complicato pensare di riuscire a tenere insieme tutti i vari pezzi, quindi è un altro elemento che si aggiunge a quelli che abbiamo già raccontato. Sì, la difficoltà, anzi, mi piace chiamarla sfida. Sì, sì, giusto. Sfida e opportunità. Abbiamo un management molto attento e un presidente che ha una strategia e degli obiettivi molto chiari e che ha saputo cogliere durante questo periodo di difficoltà la forza del gruppo, che è la condivisione. Abbiamo anche una società interna che si occupa di eventi e di team building, quindi attività di aggregazione e quindi non sono mancate le video call per sketch e interviste, le video call per, insomma, dare supporto durante anche il lockdown, quindi il risveglio muscolare al mattino, piuttosto che dei quiz pomeridiani, proprio per far percepire che l'azienda era presente. E questo è stato veramente la forza, perché la forza del gruppo è proprio l'idea di stare insieme con degli eventi dedicati, dal congresso nazionale alle cene alle premiazioni. Abbiamo tutto digitalizzato e questo è stato sicuramente l'elemento che ha permesso a noi, come Team HR, di essere vicini ai collaboratori, all'azienda di essere vicini ai collaboratori e anche e soprattutto ai titolari, perché sono i primi nostri clienti. Assolutamente. Beh, guardi, il risveglio muscolare tra le tante cose che ci ha raccontato non è male. Io ho preso appunti, effettivamente è un modo anche questo, di prendere appunti da chi magari è riuscito a mettere in campo delle iniziative che poi serviranno soprattutto per il futuro. La sfida, come ha detto lei così, la saluto su questo, è stata semplicemente accelerata da questo periodo, però probabilmente si sarebbe presentata, no? E quindi l'importante è farsi trovare pronti, anche nei mesi che arriveranno. Esatto. Ci siamo fatti trovare pronti perché, diciamo, dopo i primi periodi di difficoltà, di sfida difficile, alla fine ci siamo subito attivati. E cosa ci aspetta nel futuro? Sicuramente tante attività, tanti miglioramenti e crescita, perché il gruppo sta continuando a crescere. Abbiamo quasi raggiunto l'obiettivo dei 500 punti vendita che doveva essere per il 2022. E la rete sta crescendo continuamente con nuove aperture e quindi sicuramente nuove collaborazioni, nuovi collaboratori che entrano a far parte della nostra squadra. Come team HR abbiamo l'obiettivo di accompagnare il business in questo progetto di crescita e consolidare già quello che abbiamo. Certo. Bene, beh, insomma, consolidare il business, accompagnare, questa è un'altra espressione assolutamente ad hoc per il periodo. Francesca, spero di non averla interrotta, se non è così io la ringrazio e la saluto. Se invece stava dicendo qualcos'altro, le lascio ancora proprio 30 secondi neanche. Comunque, grazie intanto Francesca Ravasi e HR Manager di Tempo Casa. Grazie, grazie a voi e siamo molto onorati. Grazie. E per me è stato un piacere parlare con lei, insomma, e indirettamente con il suo team. Grazie e complimenti ancora. A voi. Una buona continuazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.